Musica Craccare Clusovid Games Senza patch, senza niente E ora come vedrete qui ha un 14 days normale Già un try now Però voi 14 giorni sto cazzo che li volete insomma E allora come fare per calcare questo brusovid Averlo per un tempo in cui voi sarete già morti insomma E allora diciamo che questo video innanzitutto non l'ho fatto io bensì l'ho fatto questo ragazzo Help smack Vi metterò il link in descrizione Andate su questo link E scaricate Lo fate download su Italia Poi dopo averlo scaricato, installatelo Mettetelo se volete Andate su Vabbè La casetta con il nome Andate su libreria Preferences E andate su Com.codewevers.crossover.plist Interessante Eh sì, grazie E per aprirlo ci serve un programma Questo qui Proprio Teguist Editor Ovviamente il link è in descrizione Scarica, apritelo E qua vi appare First run date Lo andate a cliccare due volte Lo modificherà E mettete fino a 3.012 Dove sarete già morti Mi ringrazio premio onore F2play E se mettete save Ok Voi direte che cazzata Io non lo direi Se fossi voi Guardate bene E qua viene da puttani Tutti i computer Mi va puttani Guardate qui quanti giorni Di trigger Si che beh Potete godervi questo bel programma Grazie Gratis Si Full gratis E si che Ciao da Duncan e da Bischero Ciao a tutti Ciao